Questa volta Cristiano Ronaldo ha superato ogni limite. Durante la partita tra Al Nasser e Alilal, Cristiano Ronaldo ha perso le staffe e ha fatto un bruttissimo gesto. Dopo varie provocazioni, Cristiano ha tirato una gomitata al difensore dell'Alilal, prendendo un'espulsione. Dopo il cartellino rosso, Ronaldo ha anche mimato il gesto di tirare un pugno all'arbitro mentre era di spalle. Questi gesti hanno lasciato a bocca aperta i tifosi, che non si sarebbero mai aspettati gesti del genere da Ronaldo. Tu cosa ne pensi? Grazie.